Eccoci qua, oggi entreremo nel fantastico mondo dei cuccioli. Nello specifico vi farò vedere 5 attività che ritengo fondamentali per uno sviluppo corretto ed equilibrato all'interno della relazione con il vostro cucciolo. L'arrivo di un cucciolo all'interno della nostra vita rappresenta sempre un motivo di grande entusiasmo. Che si tratti del primo cane o che se abbiano già avuto esperienze precedenti, nell'attesa comunque si costruiscono aspettative. E nonostante tutte le buone premesse, ci troviamo comunque davanti a due possibili scenari. Adopter numero uno, ovvero quello che lascia fare tutto al cane, tutto è permesso, zero regole e assolutamente a disposizione al 100% del cane. Tutto questo motivato dal fatto tanto è un cucciolo. Giusto per fare aprire e chiudere una parentesi, ma l'avete visto il tanto è un cucciolo, la mamma come se lo gestisce? E facendo una considerazione anche legata a qualche decennio fa, c'era chi sosteneva che il cane aveva necessità di crescere in maniera libera fino a un anno, perché a fronte di qualsiasi cosa avrebbe sempre messo il gioco davanti a tutto. Come che questo rappresentasse un problema, ma questa cosa stava in piedi perché? Perché dal momento che si iniziava a parlare di quella che era un, assolutamente non si parlava di educazione, ma si parlava di addestramento, a quel punto si iniziava con una serie infinita di regole che andavano a modificare quelli che erano comportamenti che il cane aveva preso. Ma vista oggi questa cosa e anche da diversi anni, perché? Cosa c'era di sbagliato e cosa c'è di sbagliato nel pensare di costruire quello che è un rapporto con il cane utilizzando l'elemento ludico? Soprattutto la riflessione che solitamente io propongo alla gente è quella del bambino che parte, va alla materna, fa gli elementari, le medie, le superiori, eventualmente l'università, ma i programmi che vengono strutturati e che vengono proposti al nuovo alunno o al bambino saranno dimensionati e tarati in base all'età dello studente, dell'allievo e saranno proporzionati a quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Di conseguenza perché non fare la stessa cosa anche con il cane? Passiamo ora invece all'adopter numero 2, ovvero quello super organizzato, super performativo, che attraverso un full immersion di 15 giorni proporrà al cane quelle che sono materna, elementari, medie, superiori e probabilmente anche l'università. Adopter numero 1 e adopter numero 2 in entrambi i casi hanno necessità di affrontare alcune considerazioni. Partiamo dal fatto che già l'adozione di per sé rappresenta un cambio, un cambio importante perché fino al secondo, terzo mese, ovvero per il 100% della vita che ha affrontato il cane, il cucciolo fino a quel momento, rappresenterà un cambio completo e tutto questo non farà altro che portare stress. Quando si parla di stress ne siamo purtroppo a conoscenza perché direttamente l'abbiamo trovato su di noi. Comunque sul canale potete trovare un tutorial che parla di quello che è lo stress nel cane, come affrontarlo e quali sono i segnali per riconoscere un cane stressato. Ricordate che per un mese circa il cane sarà sottoposto a una situazione stressante che altererà quello che è il suo equilibrio psico-emotico. Altra cosa da tenere in considerazione senza entrare in ambito medico-scientifico è lo sviluppo evolutivo del cucciolo. Di conseguenza questa cosa non sarà lineare e non prevede delle regole standard. E di conseguenza i programmi di lavoro saranno da modificare e da variare a seconda di quelle che saranno le risposte da parte del cane perché non sempre tutto quello che mettiamo in preventivo o applicato in maniera pratica trova il riscontro preventivato. Ecco oggi 5 attività consigliate da fare con un cucciolo fin dai primi giorni del suo arrivo a casa. Esercizio numero 1. Il Doggy Zen. È un esercizio che insegna il cane a guardarci, a cercare il nostro sguardo, a cercare quella che è una conferma. Come funziona? Prenderemo un bocconcino, lo metteremo all'interno della nostra mano e proporremo la mano al cane. Il cane proverà in maniera naturale a mordicchiare, scardinare, utilizzare una zampa e quant'altro per cercare di arrivare al premio. A un certo punto, noi sempre fermi e in silenzio, dal momento che il cane ci guarderà per cercare di capire che cosa deve fare, apriremo la mano e andremo a dare il premio. La funzione di questo esercizio qual è? Abituare il cucciolo a chiedere conferma, a chiedere una sorta di posso fare, posso andare e soprattutto lavorare sull'attenzione nei nostri confronti. Esercizio numero 2. Il seduto. Iniziamo a insegnare al cane che dal momento che ha bisogno di qualcosa, possa pensare che mettendosi seduto riesca ad ottenere un premio. Prenderemo un bocconcino, lo metteremo in alto e aspetteremo che il cane si metta seduto. Possiamo andare a favorire questa cosa facendo un leggero movimento sulla testa del cane, facendo in modo che il cane, indietrezzando, trovi comodo il fatto di sedersi. Dal momento che il cane si troverà seduto, apriremo la mano e lasceremo andare il premio. Tutto questo in un secondo tempo favorirà anche il cane nel andare a richiedere la pappa mettendosi seduto e inserirà nei comportamenti che lo portano ad avere un riscontro, mettersi seduto piuttosto che saltare addosso. Ricordiamoci sempre che il cane in natura salta addosso e morde. In questo modo stabilisce tutta una serie di interazioni e attività nel quotidiano. Noi in questo modo che cosa faremo? Non faremo altro che proporre un'alternativa, ovvero mi metto seduto, ti guardo e aspetto, e ottengo un premio, che va a sostituirsi alle attività che in maniera naturale il cane aveva preso dai fratelli. Esercizio numero 3. La pappa. Il primo legame di dipendenza che il cane ha, lo trova nei confronti del latte della mamma. Di conseguenza perché non sfruttare la possibilità che abbiamo ogni giorno nel somministrare la pappa al cane utilizzando una serie di regole e attenzioni che portino il cane a riconoscere il fatto che comunque siamo noi che gli proponiamo. Il rito alimentare in natura ha sicuramente un grosso significato, ma noi in questo modo non faremo altro che abituare il cane a rimanere fermo, seduto, aspettare e guardarci. Allo stesso modo, dal momento che la nostra mamma gli dirà puoi andare, il cane andrà sulla pappa. Solitamente durante la fase di preparazione il cane inizia a saltarci addosso, inizia a mordicchiarci, inizia a cercare di fare tutta una serie di comportamenti che lo possano portare ad avere il prima possibile la pappa. Noi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Prendiamo la ciotola, la teniamo in mano, aspettiamo che il cane si metta seduto e dal momento che il cane si mette seduto appoggiamo la ciotola. Solitamente in una situazione normale il pronti via, lo start, è dato dalla ciotola che si appoggia. Noi non faremo altro che abituare il cane ad andare sulla pappa dal momento che la nostra mano gli darà l'autorizzazione. Vai! Esercizio numero 4. Il richiamo. In natura come fanno i cani a richiamarsi? La gente solitamente mi dice Ah boia, va un fischio e tutto. No, in natura fanno questa mossa. Si abbassano, si girano e vanno via. In questo modo ti hanno chiamato. Lo fanno anche con noi quando vogliono che li inseguiamo, lo fanno con gli altri cani e quindi questo è il modo con il quale il cane dice Vieni! Provate a fare questo esperimento con il cane. Mettetevi bassi e eventualmente girate anche la schiena. Vedrete che tempo un paio di secondi il cane verrà da voi. In un secondo tempo, e questo vale sia per gli esercizi di Doggy Zen, Pappa e tutti gli altri esercizi che propongo io, non utilizzate mai la parola come elemento primario per chiedere al cane l'esercizio, ma lavorate sempre utilizzando la prossemica, la postura del vostro corpo, perché diventa molto più semplice per il cane andare a leggere quello che il nostro corpo gli comunica. In un secondo tempo inizierete un giro per la casa, nel cortile, in ambienti dove non avete bisogno di legare il cane, richiamarlo in maniera facendo urla, le situazioni sconsiderate, a proporre al cane quello che è un Vieni! Vieni! dal momento che il cane viene da voi, premio e lo lasciate andare. Tutto questo che cosa farà? Diventerà sinonimo di vengo un attimo a prendere un premio o vengo un secondo e mi fai i due coccole e rappresenterà una cosa positiva. Perché nella normalità il richiamo rappresenta una delle difficoltà più grosse alle quali vi trovate di fronte? Perché solitamente viene proposto come un sinonimo di fine libertà, sinonimo di impedite al cane di continuare a fare un qualcosa di piacevole e tutto questo perché? Perché dal momento che lo lasciate libero, probabilmente nelle prime settimane il cane è libero, si fa i fatti suoi, poi dal momento che lo richiamate viene da voi e quindi tutto questo si affronta in maniera positiva. Ma arriverà il momento nel quale il cane deciderà di farsi i fatti suoi, uno perché è diventato indipendente e due perché eventualmente sarà più propenso a interagire col mondo esterno piuttosto che con voi che via a 24 ore al giorno iniziate a diventare un attimino scontati. A questo punto il richiamo diventa smetti di fare quello che stai facendo e poi eventualmente alla fine della passeggiata lo legate e lo portate a casa. A quel punto il cane dice no, richiamo uguale fine libertà, non vengo. In questo modo già in casa, già in situazioni tranquille poi abitueremo il cane al fatto che vieni, vuol dire vengo un attimo a prendere un premio e posso tornare a fare quello che facevo prima. Esercizio numero 5. Il gioco. Ricordiamo che per il cane il gioco è una necessità e attraverso il gioco e le attività ludiche impara a interagire, fa esperienze e si relaziona. Quando parliamo di gioco possiamo parlare di pallina, trecce, legnetti, eventualmente in un secondo tempo anche problem solving e tutto comunque deve essere gestito o ancora meglio organizzato dall'adopter. Nelle prime settimane, visto e considerato il discorso stress che vi ho fatto a inizio video, possiamo anche considerare di essere un attimino più morbidi, ovvero stabilire una sorta di interazione con il cane ma in maniera blanda, però mettendolo davanti a quelle che sono attività anche che possono andare a lavorare e ricercare comunque l'attenzione del cane attraverso quello che è una sorta di motivazione predatoria. Ricordatevi sempre che le attività ludiche devono avere un inizio e una fine. Il gioco non deve rimanere a disposizione del cane dal momento che non viene utilizzato per un'attività specifica. Potrà diventare un premio, potrà diventare un oggetto da cercare, potrà diventare comunque parte integrante della vostra relazione. Iniziamo a considerare ora quelli che sono i cinque esercizi che io vi ho proposto. I primi tre, Doggy Zen, Seduto e Pappa, lavorano su quelle che sono situazioni statiche che portano il cane ad aspettare, guardarci e rimanere comunque in una situazione di tranquillità. Il richiamo e il gioco diventano stimoli dinamici sui quali non facciamo altro che lasciare al cane la possibilità di un attimino di uscire da quelle che sono situazioni che gli vanno a dare un minimo di regole. Come nei primi tre esercizi andiamo a dare una sorta di regole e andiamo a creare un punto di riferimento nella nostra figura. Con richiamo e gioco non facciamo altro che mettere le basi per quelli che saranno poi attività più complesse che struttureremo in un secondo tempo. E le cinque attività che ho proposto possono essere fatte anche in casa. Di conseguenza il nono tempo non giustifica il vostro non lavorare. Ricordatevi sempre di tenere tempi molto corti. Uno perché si tratta di un cuccio e quindi i tempi d'attenzione sono comunque ridotti. E due perché è importante finire alla fine di un esercizio quando il cane ha ancora voglia di giocare e ancora interessa nei confronti di quello che gli abbiamo proposto. Ah, dimenticavo! Ricordate sempre anche che dal momento che il cane non riesce a capire, non riesce a mettere in pratica una cosa, tendenzialmente da parte vostra diventa molto facile dare la colpa al cane che non è intelligente, che non è sveglio, che non è attento. Nella realtà io vi dico provate a pensare invece al fatto di non essere stati sufficientemente chiari nel proporre al cane quello che volevate da lui. Se ti è piaciuto questo video metti un like, iscriviti al canale per rimanere aggiornato ogni qualvolta pubblicheremo un video nuovo. Ciao! Ciao!